Torna a riaprirsi il caso di Jamal Khashoggi con l'intervento di reporter Sans Frontières. Il gruppo internazionale con sede a Parigi ha presentato alla giustizia tedesca una denuncia contro il principe ereditario dell'Arabia Saudita e altri quattro funzionari accusati di crimini contro l'umanità per il coinvolgimento nell'uccisione del giornalista americano di origine saudita. In Germania la legge permette infatti ai procuratori di rivendicare la giurisdizione universale in situazioni del genere. Il sistema giudiziario tedesco, quando si tratta di crimini contro l'umanità, ha a disposizione strumenti tra i più forti al mondo. Il procuratore generale tedesco, al quale abbiamo presentato la nostra denuncia ieri, è lo stesso che qualche giorno fa ha ottenuto la condanna di un ufficiale siriano per crimini avvenuti in Siria sulla base delle stesse prerogative che gli permetteranno ora di esaminare questo caso. La denuncia si regge in buona parte su un rapporto dell'intelligence statunitense appena declassificato e rilasciato lo scorso venerdì. Nel documento si parla anche di casi relativi ad altri 34 giornalisti, i quali, si legge, sarebbero vittime di attacchi diffusi e sistematici per motivi politici. I sospetti, i cui nomi compaiono nero su bianco, sono stati identificati per la loro responsabilità nell'uccisione di Cascioggi, così come nello sviluppo di una politica statale che punterebbe ad attaccare e zittire i giornalisti.